ciri come ho fatto e basta che non mi ammazza e basta che non mi butti la moto addosso porco dito si è rotto un'altra volta ti ho detto che mi ammazza si è rotto un'altra volta prendi prendi ma mi ha preso a me sulla gamba date a fanculo non lo prendo più il marco e cosa vuol dire tira da su questo c'è su solo la fascetta giusto fermo 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 mi strappi tutto non viene via è dentro fino in fondo mamma mia dai su forza e coraggio aspetta via lascia attivano indietro dentro 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 e se io la metto dentro da qua che è meglio devi staccarlo da dentro tanto dentro c'è il morsetto aspetta aspetta vedi perché guarda aspetta aspetta se le star di là ora una bella scocciata e sei a posto no qua no ce l'ha giù il coso dai che bella però è più bella così eh come fanculo è più bella dai è più corta così non ci strappa non succede niente ce l'ha giù il ciccio non ce la fa portarla giù no porti giù tu buttala no fammela buttarla giù buttala dai di qua però non di lì nella forno ma guarda guarda portala giù se non la vedi tocca buttarla giù e poi si rompe qualcos'altro non quello è più corto è più corto non 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 è più tante è più corto non non Grazie.